L'albero c'è, le iniziative pure. Il Natale più 2020 ha finalmente un volto, quello di un'edizione rinnovata, rimodulata per via del Covid-19, ma non per questo meno ricca di entusiasmo e di appuntamenti. Con un nuovo filo conduttore però, perché quest'anno la priorità è sostenere le attività economiche già provate da lockdown e chiusure. Da qui lo slogan più cuore per il territorio, più regali sotto casa. Oltre al grande lavoro di comune proloco, con il contributo della Regione Marche, per regalare ai fanesi un Natale degno di questo nome. Sarà naturalmente un Natale all'insegna della solidarietà e per questo che il messaggio che vogliamo lanciare è accendi il tuo Natale, più cuore per il territorio, più regali sotto casa. Quindi la necessità di aiutare le nostre attività economiche e ovviamente la necessità di aiutare le famiglie che in questo momento sono in difficoltà. Quindi un Natale da vivere come una famiglia. Per questo come amministrazione ci siamo attivati in un allestimento della città, un allestimento che dia la speranza per il futuro, con un segno particolare in Piazza Costanzi, dove le commercianti in quella zona creano un cielo stellato, facendo lavorare i maestri carristi nella zona Pincio, dove ci sarà un bellissimo presepe creato con la loro arte e portando all'esterno la cultura con una proiezione 3D sull'arco che prenderà vita ogni mezz'ora fino al 6 di gennaio, con il grande albero che campeggerà in Piazza 20 Settembre, altro 15 metri e mezzo. Un sostegno concreto dunque che passa anche attraverso la solidarietà di tutti, come quella delle agenzie di viaggio che nelle loro vetrine daranno spazio ai lavori degli hobbisti quest'anno orfani dei tradizionali mercatini. Altrettanto importante è però la promozione delle attività commerciali attraverso il web. Per questo che il sito visitfano.app cambia veste, avremo la possibilità di due vetrine, una sulle attività orecca, la possibilità di prendere cibo d'asporto oppure di avere consegne a casa, ma anche una vetrina nella speranza che prossimamente ci siano delle aperture o la possibilità di fare shopping nei vari negozi della città. Ma non è Natale senza eventi. 3, 24 e 31 dicembre sono le date da assegnare sul calendario per altrettanti appuntamenti che vanteranno la regia del fanese Henry Seccheroli. Senza dimenticare i 12 concerti in programma grazie a Fano Jazz Winter che allieteranno le domeniche prenatalizie dai balconi del centro. Non potremmo vivere gli eventi come li conoscevamo l'anno scorso, ma ci siamo adoperati affinché quegli stessi eventi si possano vivere nelle reti televisive locali, nelle pagine social dell'amministrazione comunale. Infatti il 3 dicembre alle ore 21 circa prenderà vita l'accensione della città, quindi l'accensione del grande albero e della città con uno spettacolo realizzato grazie alla collaborazione con l'Orchestra Sinfonica Rossini, con il Teatro della Fortuna e con Aurora Ginnastica. Saranno proprio le ragazze campionesse d'Italia ad andare a accendere l'albero di Natale. Poi ci sono altri due momenti, quello degli auguri di Natale il 24 e quello del 31, un momento dove cercheremo di entrare nelle vostre case con gli amici del San Costanzo Show per un momento di divertimento e augurandoci che il 2021 sia in un qualche modo migliore di questo 2020.